Due torri da 12 piani per 88 appartamenti sono in procinto di sorgere nel quartiere di Muraglia, diventando il comparto residenziale più alto della città dopo le torri della Tombaccia in largo Ascoli Piceno. E' quanto rivelato nei giorni scorsi dall'architetto Francesco Ferri, consigliere di quartiere di Muraglia, che grida lo scandalo di fronte ad un'edificazione reputata esageratamente impattante per il quartiere in una zona che ha due passi dal genica, accompagnata anche da un profilo di rischio idrogeologico. Torri che graverebbero nelle aree comprese fra via Guerini, via Terzi, via Compagni, il campo sportivo del quartiere e la sopraelevata circonvallazione di recente costruzione. Un progetto che sarebbe passato in giunta comunale con la delibera del piano particolareggiato, bypassando la concertazione con un quartiere nel quale tirare l'imminente mobilitazione con un incontro forse già mercoledì e un'ipotesi di raccolta firme contro quella che viene reputata una colata di cemento obsoleta consentita da un PRG datato 2001. La zona in questione è infatti quella in cui insisteva la fabbrica Carloni, che è proprietaria di un'area in cui mantiene capacità edificatoria pari alla volumetria della fabbrica. Un'area tra l'altro già salita agli onori della cronaca per le complesse operazioni di dismissioni dell'amianto presenti nell'area. Una situazione da approfondire in un quartiere che sarà già rivoluzionato dalle cantiere del nuovo ospedale. Sul caso sono intervenuti anche il sindaco Biancani e l'assessore Nobili attraverso un comunicato stampa che oggi ha spiegato come l'amministrazione abbia le mani legate di fronte ad una capacità edificatoria prevista da 23 anni volta a cambiare la destinazione da industriale a residenziale. Biancani ha chiarito come il progetto abbia visto votare in giunto una delibera che ha avviato le procedure di mitigazione e riprende le norme del piano regolatore con una capacità edificatoria di circa 7.700 metri quadrati per un numero massimo di 12 piani e 38 metri e mezzo d'altezza per palazzo. Ora la delibera andrà al vaglio dell'autorità di Bacino che verificherà la fattibilità e conformità del progetto rispetto al rischio idraulico. Il comune non può però opporsi ad una facoltà consentita ai proprietari dal PRG e può porsi solo come interlocutore per un dialogo con i privati che porti ad accorgimenti al progetto. Intanto il comune chiarisce anche che il comparto urbanistico prevede anche aree che diventeranno pubbliche lungo il Genica con la presenza di verde per oltre 38.000 metri quadrati una piazza, dei percorsi ciclabili e oltre un centinaio di parcheggi a raso.